Con due guerre alle porte d'Europa e il paese spaccato in due su temi come l'invio di armi in Ucraina e il fronte medio orientale, il prossimo 25 aprile sarà un momento tutt'altro che semplice. Nelle scorse settimane l'AMPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, aveva auspicato un corteo unitario e partecipato. Nelle ore successive però il presidente provinciale, Primo Minelli, aveva spiegato che il corteo si sarebbe riunito dietro un grande striscione che chiede il cessate il fuoco ovunque. Striscione è contestato però sia dalla brigata ebraica, che chiede di citare anche la liberazione degli ostaggi, sia dalla comunità ucraina, che ricorda la sua giusta resistenza armata. Davanti alle tensioni, nelle scorse ore, il sindaco Sala ha chiesto a tutte le parti in causa di abbassare i toni. Il 25 aprile, ha affermato il primo cittadino, non venga trasformato in qualcos'altro, non diventi un derby tra Israele e Palestina, perché sarebbe veramente sbagliatissimo. In sostanza, spiega Sala, ci sono mille altre occasioni per parlare della tragedia a cui stiamo assistendo, ma non facciamolo, il 25 aprile. Alle parole del sindaco rispondono i diretti interessati. Il direttore del museo della brigata ebraica, Davide Romano, propone provocatoriamente di togliere ogni riferimento al Medio Oriente dalla festa della liberazione. Lampi però non demorde e annuncia che lo striscione per il cessate il fuoco ci sarà, perché, spiega il presidente Minelli, non parla né di Medio Oriente, né di Palestina, né di Israele. La parola ovunque è pensata proprio per impedire queste discussioni da derby.